Aventi! Muovetevi! Forza, forza! Oraggio, entrate! Muovetevi! In quella sala, resto! Fermi! Fra tutti voi verranno scelti coloro che dimostreranno maggiori capacità nelle scienze del male Gli esami inizieranno immediatamente Quelli che supereranno le prove saranno addestrati e tirati su con cura dagli scienziati dell'impero di Desdak Che viceversa, dimostrerà scarse attitudini, sarà eliminato Avanti il primo! Subito! Non voglio! Non voglio! Non voglio! Accendi! Ho gli ordini! Risultati del test Indice di cattiveria 2 Indice di inclinazione al male 0 Capacità di azione criminale 1 Basta così, è esattamente il tipo di candidato che non vogliamo Farà bocciato Siete pronti? Sì! Lanciane un'altra! Un po' più alta! Dai! Ma cosa fai, Sintaro? Stai attento! È sempre lo stesso Ma non riesci a prenderti o anche cosa fai? Non ci avrei scommesso, sai mani di pasta frolla Stai rovinando il gioco, vattene, ti metto fuori squadra Io so giocare, la palla ti è rimbalzata male Ah sì? Allora vai a prendere questa Attento! Avanti, scendi Ma sei matto, è pericoloso attraversare in quel modo Non piangere, se posso darti una mano lo faccio volentieri, vuoi? Sì Prendetelo al volo, non deve cadere a terra, forza! Via! Come sei bravo! Sì, bravo! State a sentire ragazzi, voi siete amici e dovete giocare tutti insieme Sì, ma Sintaro è scarso a giocare, non imparerà mai Non è detto Anch'io quando ero piccolo non toccavo una palla Ma esercitandomi ho ottenuto dei buoni risultati È tutta questione di volontà, no? Dici davvero? E diventerò come te? È possibile, certo Dovrai semplicemente impegnarti molto Coraggio, fatelo allenare insieme a voi Sì! Mi dispiace ragazzi, ma devo scappare Hai sentito quello che ha detto? Devi farmi giocare A Yohama è stato richiamato urgentemente Perché i Gogor Five hanno intercettato una comunicazione sospetta E hanno deciso di indagare Presto, andiamo! Go! A Yohama è stato richiamato una comunicazione sospetta A Yohama è stato richiamato una comunicazione sospetta Sono il serpente di testa Via, via, via Vortice ipnotizzante, via! Bene Adesso obbedirete tutti ai miei comandi Presto, giratevi Giratevi Salite su quell'autobus Via! Muovetevi Salite sull'autobus Non prendete tempo Presto Ecco che arriva un altro gruppo Salite Alla sventa Su! Su, avanti Fermi! Uomo ridicolo Uomo ridicolo Pulbi Explosivi Gagor Bloom Ti ucciderò Stupido Non potrai mai competere contro l'impero di Destac Di cui io sono un fedele servitore Muori Scaglia esplosiva Ancora Presto Gagor Cerchio Via! Sciocco L'ha neutralizzato Go! Go! Lingua adesiva L'ha neutralizzato Lingua adesiva Che? Ah! 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 Gagor Fai! Non mi fate paura Ah! 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 Dobbiamo fermarlo Arrapito dei bambini Davvero? Ora vi mostrerò i miei poteri Ah! 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 Esercito di rettili! Attenti! Accidenti! Non posso muovermi! Sembrano d'acciaio! Non, maledetta bestiaccia! Non riesco a liberarmi! Sì, che cosa c'è? Ascolta il mio ordine, serpente mostro! Torna immediatamente alla base! Accidenti! Proprio adesso che ero riuscito a ridurre il mio potere quei maledetti Gogor Five! Ma li distruggerò! È sparito! Si è eclissato nel cielo come una visione! È impressionante! Dobbiamo trovare un modo per contrastare i suoi poteri altrimenti è troppo forte per noi! Sì! Voglio avere molti più ragazzi! Certo! Dannato idiota, è tutta colpa tua! Non ti avevo detto di farmi un buon carico? Perdono, mio signore! D'ora e poi dovrai perseguire giorno e notte questo obiettivo! Aoyama! Ciao, Sentara! Come stai? Avevo bisogno di parlarti! Ti ho cercato dappertutto! Ho deciso di stare sempre a tuo fianco! Cosa? Devi insegnarmi tutto! Io voglio diventare come te! Non puoi! E perché? È troppo pericoloso! Sai, la mia vita è molto rischiosa! Non importa! È questo che vuole! Su, andiamo! Salite sull'autobus! Una alla volta! Avanti! Fermatemi! Maledetto! Non mi fermerai! Aspetti! Ho fatto il centro! Impertinente! Sentalo! Fermati! Questa te la vado a pagare! Salvami! Aoyama! Lascialo stare! Aiuto! Non pensare a mia, Aoyama! Agamon! È ricomparso il serpente! Accorrete subito! Devo andare! Peccato! Sarà per un'altra volta! Aoyama! Dacci la tua posizione! Devo chiudere il contatto! Intendo inseguire il serpente! Baccarlo! Appena informati, Agamon e gli altri si lanciano alla ricerca di Aoyama. Guardate bene! Ora vi dimostrerò come viene eliminato chi non ha superato la prova! E non soltanto loro! Elimineremo anche chi ha cercato di ostacolarci! Quello! Contatto! Subito! E adesso toccherà uno di voi! Il primo sarei tu! No! No! Aiuto! Aiuto! No! Lasciatemi! Lasciatemi! No! No! Lasciatemi! Aiuto! No! No! Così imparerai a metterti contro di noi! Dove si trova il tuo amico adesso? Tutto pronto per l'esecuzione? Attendiamo solo l'ordine! Tra poco pagherai per le tue colpe! Ti rimane qualche attimo di vita e poi sarà finita! Soldati! Giustiziatelo! Fermi! Sentate! Grazie! Lo diamo! Vai insieme agli altri! Andate via di qui! Presto! Sì! 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 Tu! Ehi! Dai! Tu! 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 Hai finito di darci fastidio! Non ti rialzerai più! Chiama i tuoi amici! I serpenti! Raccomandati a un dio se ce l'hai! Basta con le chiacchiere! Vieni qui ad affrontarmi da solo! Gagar blu! Tu! Buldi esplosivi! Buldi esplosivi! Facciamola finita! Io non chiedo di meglio! Doppia pugna blu! E' quella di prima! Non abbiamo scopo! Su questo sarò d'accordo! Dog or five! Pensate a proteggere i ragazzi! D'accordo! Invisibilità nera! Io sono qui! Non mi vedete? Tieni! Anche tu? Ancora in piedi? Ecco! Avviva! Ci sono i gogolfari! Riparatevi sulla collina! Andate! Sempre i gogolfari! Go! Ready set! Go, 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 go! Go, go, rosso! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go, nero! Go, 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 blu! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! A ciagare, a ciagare, che il mano è grotta di gioco Fatevi sotto! Alla cacco! Forza! Venite a giocare a pallone, eh? Bel colpo di testa! Il rugby lo conoscete? E il balletto? Go, go, fai! Avete usato a sfidare i miei superpoteri? E allora peggio per voi! Ho il serbo delle sorprese, sapete? Che ne dite di questo? Esercito di reptili! Mi sta strozzando! Non ce la faccio più! E adesso? Attenti! Sì, lo vedo! Forza, proviamo ad attaccarlo tutti insieme con le gogur capriole! Bene! Go, go, calcio! Calcio a elica! Sono libero! Forza, non piantarmi in alzo ora! Lascialo a me! Lo attaccherò con il cerchio blu! E da me! Presto, go, go, sciabola! Go! Go! Rossa! Nera! Blu! Gialla! Rosa! Go, go, fai! Mega serpente! Decollo! Raggio rigenerante! Sono pronto! La navetta! Presto! Andiamo! Go! Salita! Posto 1, partenza! Assembriamoci! Go! 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 Tagore 1, tagore 2, tagore 3! Assembriamoci! ora! Chega Nima! Pronti all'attacco! Vortice di tempesta magnetica! Neve disarticolante! Cogor girandola! Super lama laser! Rosso, pronto all'azione! Blu, pronto all'azione! Giallo, pronto all'azione! Contatto stabilito! Energia galattica! Vortice di tempesta magnetica! Vortice di tempesta magnetica! Vortice di tempesta magnetica! Vortice di tempesta magnetica! Grazie ai nostri amici, anche l'ennesimo piano criminale dell'impero d'Ezdak è stato sventato. E in più, il piccolo Sentaro, che è rimasto affascinato da Gogor Blu, ha deciso di seguire il suo esempio e i suoi consigli. affinché, diventato grande, possa contribuire ad aiutare i Gogor Five a combattere il crimine. Nel frattempo continuate a difenderci voi, piccolo esercito dei Gogor Five! Grazie! Grazie!